Ciao, sono Giorgia, in questo video ti darò alcune importanti informazioni su Idealis. Normalmente, a causa delle occupazioni quotidiane come il lavoro, lo studio o semplicemente una vita sedentaria, una grande percentuale di persone nel mondo soffre di obesità e di malattie legate a questo problema. Siamo onesti. Per quanto desideriamo essere snelli, atletici ed energici, ci troveremo sempre nel dilemma, non ho tempo per fare esercizio fisico, perché lavoro, o sto studiando, o non posso mettermi a dieta, perché devo alzarmi presto, o perché faccio troppo tardi la sera, o non mi piacciono le verdure, ecc. Inventiamo sempre una scusa per giustificarci, quando ci sentiamo male per il nostro aspetto fisico, per la scarsa motivazione a fare le cose e per la nostra depressione, spesso questo tipo di cose tende a tenerci lontani dal nostro partner, dalla famiglia o dagli amici. E questa situazione diventa un circolo vizioso che si interrompe solo quando è troppo tardi e i problemi non hanno soluzione. Siamo pervasi da una motivazione momentanea ed esplosiva che ci spinge a fare cose che spesso ci danneggiano, oppure creiamo aspettative molto alte a breve termine e, quando non raggiungiamo gli obiettivi desiderati, torniamo al punto di partenza, pieni di tristezza e frustrazione. Vedendo questa situazione, le organizzazioni sanitarie sono state costrette a studiare e creare prodotti specializzati per la perdita naturale e sana del grasso corporeo, uno di questi prodotti è Idealis. Ma a causa del grande successo e dell'efficacia di questi prodotti, molte persone e organizzazioni producono costantemente formule contraffatte di questi integratori per la perdita di peso e il dimagrimento e le vendono su siti web falsi o piattaforme diverse dal sito ufficiale del prodotto. Ecco perché è necessario fare molta attenzione quando si fanno acquisti online. Per evitare che questo accada a voi, nella descrizione di questo video e nel primo commento, c'è il link al sito ufficiale di Idealis, dove potete trovarlo con la sua garanzia originale che se per qualsiasi motivo non vi piace il prodotto o non ottenete risultati soddisfacenti, potete chiedere il rimborso completo di tutti i vostri soldi. Idealis è una compressa dietetica specializzata nel bruciare i grassi, facile da assumere e a base vegetale, che aiuta a perdere peso senza compromettere il salute. Vi accorgerete di svegliarvi al mattino con una sensazione di freschezza e riposo. Il vostro corpo lavorerà in modalità dimagrante e inizierete a perdere grasso. Vi sentirete felici di aver perso peso e indosserete abiti di una taglia in meno. Il vostro corpo sarà ringiovanito, la massa corporea si ridurrà e i chili di troppo scompariranno. Idealis è composto da. Stratto di fagiolo. Stratto di zenzero. Estratto di radice di ginseng. Radice di fenno. Perla bianca. La dose giornaliera di Idealis è di tre compresse, mezz'ora prima di ogni pasto. Idealis si rivolge ai depositi di grasso e lavora per bruciarli, evitando che i carbodrati consumati vengano convertiti in grasso extra. Sopprime naturalmente l'appetito, permettendo di controllare meglio il desiderio di cibo, e aumenta i livelli di serotonina per migliorare l'umore. I vantaggi di Idealis sono. Riduce l'appetito. Produce una sensazione di sazietà. Riduce il gonfiore. Può essere assunto da uomini e donne di tutte le età. Migliora il sistema immunitario. Potete continuare a mangiare i vostri piatti preferiti senza preoccupazioni. Riduce naturalmente il peso accelerando il metabolismo e convertendo i grassi in energia. Idealis non ha effetti collaterali. I contro di Idealis sono. Questo prodotto non è venduto in farmacia. Se si desidera ottenere risultati più visibili e soddisfacenti, è necessario assumere Idealis per almeno 5 a 6 settimane. I risultati possono variare a seconda del corpo di ogni persona. Idealis non è un integratore per la costruzione muscolare. Non è adatto alle donne in gravidanza o che allattano. Per ottenere Idealis è sufficiente accedere al sito ufficiale, registrare il proprio nome e numero di telefono. Quindi si verrà contattati dal team di specialisti che potrà fornire un piano di trattamento personalizzato. Non ci sono più scuse. Se volete davvero perdere peso senza fare diete o esercizi e senza privarvi di cibi che amate, Idealis fa per voi. Spero di avervi dato tutte le informazioni che cercavate. Arriveder.